buongiorno bene dopo un lavoro mattutino di aiuto familiare siamo qui nuovamente in questo venerdì 30 ottobre 2020 quasi alle ore 11 e 25 parliamo della puntata odierna di friday night smackdown chi amante come me della ww sai che ormai da un anno smackdown è tornato il venerdì e soprattutto live quindi come vedete dall'immagine di videocopertina una delle protagoniste uno dei protagonisti della puntata odierna sarà sasha banks fresca vincitrice il titolo femminile dello show blu del venerdì sera in quel di elli nacelle battendo bene nella gabbia infernale nella cella infernale altro punto di spunto all'ordine del giorno sarà le conseguenze che pagherà j uso ma ma credo sia j che g mi uso in virtù del successo della difesa titolata di roman re in sempre in adelli nacelle e come sasce belli anche loro nella cella infernale non ancora letto nulla su eventuali match di qualificazione di di survivor series ma presumo che anche a smackdown come successo a rocci saranno bene noi ci vediamo nel caso ci sia qualche notizia boom qualche extra video ci vediamo oggi altrimenti domani con altri video ricordatevi ricordatevi ricordiamoci che mi trovate qui su youtube e su facebook su facebook presente anche come due paginette deluxe television e pronostici calcio deluxe ciao a tutta la prossima ciao